La tribuna a cordelli dello stadio Enrico Galli di Cerveteri, ancora chiusa dopo quasi un mese, attende che inizino i lavori per essere fruibile dai tifosi. Dopo tante polemiche tra il club Città di Cerveteri, concessionario dell'impianto e il comune, si è arrivati ad una conclusione, quella di effettuare i lavori necessari affinché la tribuna abbia le carte regola per ritornare agibile. I lavori necessari perché ci sia tutto ciò riguardano i cancelli di accesso allo stadio che dovrebbero essere installati nei prossimi giorni insieme ad altri interventi che servirebbero a completare l'iter documentale che una volta in regola scongiurerà queste immagini di tifosi e genitori che per assistere alle gare devono arrampicarsi sulla rete. I costi dei lavori saranno a carico della città di Cerveteri.